e ciao ragazzi di tutto questo video sono blitz e oggi si è amicato la nostra sui link di pokémon verde faiorosso fuoco insieme a oggi devo fare il nascondino segreto del team rocket per entrarci di parlare più questo tipo del team no questo reclutare team rocket e ammazzarlo non so per questo usando amber ma l'ho bruciato al massimo uso colana perché non vuoi spiegare film trowel non c'è fiamma vuoi portare il livello 35 questo po come bella si parla siamo tantissimi livellati sopra di di nato e domani qui fatto ma per adesso sono così ma penso penso che nella seconda morte contro giovanni e anche gheri nella terza battagione di gheri non hanno troppo troppo liberati sopra c'è perfino si sta entrando adesso perfino penso che non serve combattere se mi sono combattuto quella destra con la sinistra poi schivarlo quindi solo si può schifo anche se c'è di che puoi scappare così normalmente se hai di che non serve combattere lui sai di l'ho combattuto solo perché voglio allenare il mio c'era milion così diventerà un certo in questo video non penso che ce la fai di che metterò l'evecato c'è di tommenici squadra il molino squadra ce l'hai il nome completo io lo so tutto il combattuto tutti anch'io perché c'è la 5 ma dai 5 po con soltanto chi lo sta battaglia continuando dove fare sto facendo già la stradetta c'è il punto non posso usarlo anche adesso perché 104 app of studio portano livello 50 ito c'è quando la muslo use pof sito lo vendo c'è quando ogni attacco qui di pof non è molto più importante ma non è molto più importante non è molto più importante quello che mostri c'è c'è un 3 attacco 80 drill pack 80 e flight e pek 35 eh pek 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 riusa riusa superato il puzzle riuso a superato il puzzle faccio uno dei due faccio gli allenatori c'è una fine io lo ammazzato ammazzato in sta allenatore oh my god è il livello 86 non c'è niente l'air candy usiamo e visto che il vento del mio cerminio in charlotte il tuo e si evolve al 33 no anche da 586 si evolve al 33 imparare un gatta che per questo che fare imparare fly ha preso in faccia imparare un attacco per adesso ci sto facendo tutti si è arrivato mi sono iniziato a fare il puzzle adesso facendo anche il secondo visto sono bloccando perché vado su un unico gli sbagliati presenta e qua scendere è vero se andare indietro chiamo si tipo buio gli do a carp la situazione ok maxi l'allenatore dovete farlo perché ti da la piccola che la chiave piccola c'è la luna chiave di questo si è uscito a batterlo guardate il mio charlotte questo il blaze è anche livellaria c'è poco meno un costo rato come avevo le patrie ma giusto facciamo tutti grazie prechi gli sti e sono una scensore da qua si può intervedere giovanni sì perché ti serve tantissimo contro amico mio giovanni che c'è non c'è una roba di pt si è fatto da una situazione del b124 ok non da qui sono battisti allenatori non hanno come scarse ne hanno forti forti io sto spiegando il mio ciaffiamo di usarli dopo devi andare abbattuto l'ultimo allenatore io ero fu chi ha messo davanti per mettere carto davanti c'è giovanni ma sembravo lì c'è ero l'inchi adesso a tre poco ma un po niente di più c'è un onyx sentimi dato il faccio un vuoto con il pac di che ti consiglio di start un po come di tipo acqua o lotto e che anche l'uso tipo l'otto dire che poi anche star da con lui ride poi anche usare un poco tipo fuoco ma se non ce l'hai usa sempre tipo acqua userò tipo poco che sarà blaze l'ensame è nato mannaggia come l'efficacia non vuoi perdere il poco adesso no posso sarebbero sì sì cosa ho fatto non ho lasciato sperando che non muore ma due giovanni bug allora mi sembra un antidoto sono parte conosso che poi si hanno paura di partire con lui ma c'è una porta lo stesso scopo si scorse per prendere dentro la torre giovanni come se la bag con bini qua con queste piante giovanni anche a chi ma che cavolo con bini qui è uscito qui sottato alla palestra giovanni io messo l'attorno tanto con la città c'è la torre non c'è di no c'è skip road guardo su una consiglia guardo sto andando scoperta guarda sto andando hai solo andare trovo la della battaglia wow scusate non sono c'era parte contogheri ho battuto il suo pigiotto oh mio dio non ho letto di nuovo sono stupido credo che adesso vuole servono non dovrebbe essere chiuso che alla fine della liga poco ma si diventerà una bestia sì che si può comune rubino sia fatta fatto malissimo il porto è vero non c'è non ho già perso ho tolto le voce entra ancora cadavra dove c'è cadavra e vede che anche i panchi e vede che apprezzo anche nato ratti kate ha messo in panchina l'attica perché non lo voleva dice casca è un grande rimedio non capito come si usa neanche io ti pare io lo uso dice che davvero poca vita e di che se ho comito come fai il 38 e perché mai te super efficace non c'è la legge chiudono cosa aveva quanti poco avevo 5 e anche me la città bocca alla gheridos e grow light e cadavra cadavra il visauro e pigiotto perché vedi città bocca alla cattura di gas lì c'è visto volo prendere a pokeball qui fatto io mi sono fatto vedere mai neanche nella mia non ma io non so credo che si è girato un po confettiva tipo la città c'è la cattura di un po con cui sarebbe bike vero white non mi porca pa uso ogni mossa partiti pormone questa stanza poi si pare già salsiasmo schifo attacco tantissimo alle autorie poi schifo tantissimo alle autorie poi schifo tantissimo alle autor a parte un bocca c'è gas lì grazie scontrati ho fatto qua sto fermato così che vanno un po affa al tiro ha disoccupato tutti però come ok ok quanto great ball la del blocco spaccato non date addirittura si vede e dovevo fare giro si è si deve far giro è stato un gasto e tutta un under che fortuna noi mi cammino ho fatto verso la fine io no ancora supera questa parte che c'è nel testo che chi 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 non è mai uscito ma migliorora tra i 20 che un cubo per 17 che tutto un gasto si va in 100 tipo di poche non poi si parla salva ai toposcrittori vedi salva sono coltanti combatte ping messero che un colato per non colpo credo ma stiamo salendo dei giorni morta vero tipo un nuovo palco sembra c'è una lettera che puoi schivare penso è una che non può schivare non qua qui si potrà andarci l'interno sono dato giu per questo subito a pochi buoni e questo visto per primo visto sotto l'ho conosciuto a cui basta io con se le domande mi finisce il tour suite ma c'è io devo avere metà vita che limite li dovere metà vita così mi con i miei di cura non mi cura metà vita solito vite mi cura detto sto c'è maro c'è marowak che non può catturarlo di di scappare è vero che chiedevi di toglierlo perché è stato mazzaro di ammazzarne ma si lo so si è andato da vai ma dal cubo ma sono così schifoso che faccio un altro passo ora di morire sono intimidato se me ne vado ok intervalli allenatori di consiglio di usare un po che tipo acqua sennò che tanto sono solo che sono gestita con attenzione una delle lecce del team rocket a c'è un treno totale per prendersi frauto lasciata un ps uso twister costo detto che bisogna un poco tipo acqua non sapeva che ha detto non è fatto metà vita o un colpo ciao salva perché ci sono il mento del team rocket in parto con zubat e strobe e goal ciao secondo allenatore che voglio anche cioè portarlo che d'oltre del sesso no questa stessa un'ultima evoluzione davvero sì anche per il giorno gigante ma questo è un gigante quasi ma piccolo la vedi della prospettiva di un alternatore è gigante per esempio se avete la prospettiva di giovanni sembra più grande al tuo si rimane un giorno io per la palestra di usare solo un periodo no me l'ha missato e che bravo bravo se non so chi non è bello non sei bravo sono sciotti la seconda battaglia di usare usato con l'eo l'ultimo uso smog per fortuna sulle e bai to superficazio che stai facendo pulsi che lo faccio sempre superficazio io sto spavando mi sto spavando rollout contro tutti i zubatia ma non è bene per fare money, perché non usare è stato un'azienda ho noto uscito 4 2 sono di zubat e un gol bat sono razzata è nato tutto quello che mi so se pensano tutto c'è nelle belle questo mi piace le mani mi ha un poco che trova per in giro da me non lasciato mai lasciato a ma non d'invito niente non è solo metà vita la sposa di meter non usare più di metà tipo da ammazzare poco che è proprio ecco la colpito potremmo montare mandare i tuoi i tuoi ma ti combatto l'ultimo no ti dà il flauto riveliare relax relax sono casa tua e se mi dà il saluto sono da prendermi non l'ex velocemente poco fluo vado mi dirò la dove sono tutti perché sì ma non fate nessuno e non falli ma se c'è un alti posto di peccatoria non c'è la stagione c'è che c'è tanti posti e poi c'è la faccia di l'ultimo ingegni e costone si c'è è in fondo quando giù 16 e per questo bisogno è tutto per me io in giocatore si da snorlax e io ciò